Ciao a tutti! Stasera vi faccio vedere Reggio Emilia, è la prima volta che riesco a venire in centro Reggio Emilia e vi faccio vedere adesso Reggio Emilia by night, anzi by tramonto e poi domani Reggio Emilia di giorno. Questo è il teatro di Reggio Emilia, qui davanti, palazzo dei musei, montana, Mirko non conosce il nome delle piazze di Reggio Emilia. Reggio Emilia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.